Angelo Parodi diceva sempre Non fate mai aspettare una signora Ma certamente fate aspettare un tonno Per questo lasciava i tranci tre mesi a stagionare in olio d'oliva Angelo Parodi diceva anche Che i miei filetti assaggia dice... Annaggia Poi ricordava Andar lenti Prende i tonni contenti E infatti scatolava piano piano i suoi tranci Proprio come facciamo ancora oggi Angelo Parodi Dal 1888 un mare d'esperienza Prende i tonni